Musica Anche il Comune di Meldola ha deciso di aderire al progetto promosso dall'Associazione Italiana Donatore di Organi una scelta in comune che permetterà dal 1 di marzo di poter esprimere il proprio consenso o di niego alla donazione degli organi direttamente all'ufficio anagrafe. Sono già 5.500 le persone nel comprensorio di Forlì che hanno deciso di dare proprio consenso al trapianto degli organi iscrivendosi all'Aido. Adesso anche il Comune di Meldola ha deciso di partecipare al progetto Una scelta in comune. Come mai questa scelta? Mi sembra una scelta di civiltà. L'idea che da un momento così tragico come la morte possa nascere la vita credo debba interessare e stimolare qualsiasi realtà, tanto più un'amministrazione pubblica come è il Comune. Noi crediamo fortemente nel valore di un atto di donazione che rappresenta la possibilità di vita per tante persone. Ovviamente il percorso dell'Aido da tanti anni è il paladino di una scelta di civiltà. Noi amministrazioni sono entusiaste di essermi accodato da altre amministrazioni che avevano già fatto questa scelta perché crediamo fortemente in un atto di generosità nel momento peggiore che può capitare a una famiglia. Che cos'è il progetto Una scelta in comune che Aido sta portando avanti? Allora, il progetto Una scelta in comune non è in realtà solo di Aido ma è una legge nazionale che è stata approvata appunto dal Parlamento perché ogni tanto vengono emesse anche delle leggi in favore della popolazione visto che tutti si lamentano che non fanno mai niente ma ogni tanto qualcosa di buono viene fatto ed è appunto una legge nazionale che è stata accolta anche dal Lanci, dall'Associazione Nazionale Comune d'Italia e prevede che i comuni si organizzino presso le proprie anagrafi a ricevere nel momento del rinnovo della carta d'entità l'espressione di volontà o di niego della donazione degli organi. Quali sono gli organi e i tessuti che si possono prelevare e quali sono i principali organi trapiantati a forlì? Dunque, intanto i tessuti che si possono principalmente prelevare sono le corne, segmenti ossi, segmenti vascolari, vasi, valvole e cute. Per quanto riguarda gli organi che si possono prelevare sono il fegato, i reni, il cuore ed i polmoni. A forlì si fanno tutti questi prelievi sia quando si hanno appunto dei pazienti che vanno incontro a morte encefalica e che quindi fanno un prelievo a molti organi e molti tessuto. Voi vi occupate appunto della fase più difficile di accompagnamento delle persone e dei propri familiari. Ci sono casi dove ci sono diciamo pareri differenti rispetto al paziente piuttosto che ai familiari. Come li gestite? Dunque, intanto è estremamente raro trovare una volontà pregressa da parte del paziente. Quindi la quasi totalità dei casi attualmente è lasciata al colloquio con i familiari che devono un pochino interpretare quella che era la volontà del paziente in vita. Chiaramente se ci fosse una contradditorietà perché il paziente che in vita aveva espresso un parere favorevole e poi dopo ha riferito ai familiari di aver cambiato chiaramente opinione chiaramente si rispetta la volontà del paziente che è stata quella di revocare la propria volontà. Nel 1996 Forlì si occupa di donazione. Fate anche informazioni in ospedale? Sì, si fa formazione sia nelle scuole che chiaramente nei reparti per cercare di sensibilizzare sia gli ambienti dei giovani sull'argomento e anche naturalmente i reparti perché sono coinvolti come curanti di pazienti che sono potenziali donatori. A chi si trapiantano gli organi? Ma si trapiantano gli organi, si trapiantano a dei pazienti che hanno delle patologie che spesso sono terminali e che in assenza di trapianto andrebbero incontro o a morte oppure a una qualità di vita molto peggiore pensando per esempio ai pazienti che sono in emodialisi e che invece con un trapianto di rene potrebbero smettere di essere trattati con l'extracorporea. Per quanto riguarda invece il donatore, quali sono le caratteristiche anche dal punto di vista legale che consentono il trapianto dell'organo ovviamente col consenso del donatore? Quando una paziente mostra i segni clinici di morte encefalica e questo accade in reanimazione viene convocato un collegio di tre medici che sono un reanimatore, un medico legale o di diversità sanitaria e un neurologo che collegialmente, quindi in modo unanime, dopo aver eseguito degli accertamenti tipo clinico-strumentali fondamentalmente l'elettroencefalogramma ed esami clinici sul paziente dopo sei ore di accertamento sono in grado di accertare la morte encefalica. Come sta andando il progetto qui nel comprensorio di Forlì? che comunque si sta ampliando, quindi sempre più comuni stanno decidendo di aderire a questo progetto della donazione in comune. Assolutamente, ovviamente questo progetto è per Aido un progetto che definiamolo così il core business cioè il progetto principale perché ovviamente consente l'avvicinamento del maggior numero di popolazione quasi tutti, quindi tutti i maggiorenni che andranno a rinnovare la carta d'identità e quindi è per noi il progetto più importante che stiamo portando avanti in questi anni. Nel comprensorio forlivese al momento si sono attivati il comune di Forlì, di Forlimpopoli, di Meldola, di Galeata, di Civitella, di Santa Sofia e di Predappio. Confido che nel 2017 gli altri comuni del comprensorio riescano ad attivarsi perché ripeto questo è un progetto che nasce comunque da una legge dello Stato. Devo però, in questo caso voglio cogliere l'occasione per ringraziare il sindaco di Meldola il dottor Zattini perché prima di altri comuni si è attivato e quindi comunque ha dimostrato una particolare attenzione a questo problema civico e quindi l'AIDO lo ringrazia pubblicamente perché certamente ha favorito e accelerato questo progetto e che quindi potrà partire dal prossimo primo marzo presso il comune di Meldola. Vogliamo ricordare ancora una volta, cose che sembrano scontate ma è sempre meglio ricordarle, la propria scelta è libera, la scelta è assolutamente libera ed è gratuita. Assolutamente, spesso si sente sentire nei telegiornali magari di traffici di organi eccetera è chiaro che la donazione di organi che avviene attraverso il sistema sanitario nazionale è completamente gratuita ed è anche anonima, cioè nel senso che un donatore dona un organo e verrà impiantato a una persona che in quel momento risulta primo nella lista cioè quindi il più bisognoso nel territorio italiano e quindi non ci sono favoritismi, non ci sono nessun tipo di problematiche legate al fatto che magari o di corruzione. Il sistema è veramente una delle eccellenze italiane e quindi voglio rassicurare a tutti i cittadini che appunto l'espianto viene assolutamente nel momento in cui la morte è certificata come ha ricordato il dottor Farolfi da una chip di medici e viene impiantato a persone che effettivamente ne hanno bisogno e quindi date un parere, esprimete il vostro parere in maniera molto tranquilla chiaramente Aido pur essendo favorevole alla donazione degli organi rispetta anche quei cittadini che comunque legittimamente non hanno intenzione di donare e quindi esprimono parere negativo. È un parere legittimo che noi rispettiamo comunque. Dal punto di vista dell'attenzione sociale, del volontariato, della sensibilità l'Italia è sempre stata uno dei primi paesi nel mondo a fare passi e a muoversi in un senso propositivo proprio in questa direzione. Quali sono i dati nazionali di vite salvate grazie alla donazione di un organo da parte di una famiglia piuttosto che una persona che ha scelto di fare questo regalo ad altre persone? Allora se mi chiede i dati diciamo complessivi non li conosco perché ovviamente sono dati nazionali che non ho con me. Certamente il fatto di decidere di donare degli organi chiaramente da una persona questo consente di poter salvare in maniera istantanea, in maniera comunativa più persone perché ovviamente con un espianto multiorgano possono essere questi organi impiantati in diverse persone e quindi da una donazione possono tranne beneficio diverse. Sicuramente questo gesto che si decide di fare soprattutto nella scelta diciamo consapevole per cui il donatore decide per sé magari esprimendo il proprio consenso in comune piuttosto che negli altri luoghi atti a questo scopo favorisce anche una sorta di cultura sociale della donazione contro l'egoismo. Assolutamente. Una volta nelle scuole veniva insegnata la cosiddetta educazione civica. Ecco questo sicuramente è un gesto che rientra nell'impegno civico dell'essere cittadino. Ecco questo sicuramente è un'impegno civico dell'egoismo.